Cari amici telespettatori, benvenuti a questo nuovo video per voi, siamo rigorosamente qui con voi, ma lo vedrete registrato questo video, però ascolteremo insieme un po' di musica e così salutiamo anche tutti gli amici che compiono gli anni di Facebook ed ora andiamo ad ascoltare un po' di musica e quindi mettiamo una canzone, I Want To Be Free Day Queen e quindi I Want To Be Free 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 Grazie a tutti E' arrivato il momento di salutarvi tutti quanti e vi diamo appuntamento al prossimo nostro video Ciao a tutti